Uno dei grandi trend dell'anno nel mondo della tecnologia è sicuramente quello dei robot aspirapolvere e lavapavimenti. Non si tratta certo di una novità del 2024, ma ora li stiamo vedendo evolvere con grande velocità per entrare nelle case di tutti, con tante funzioni smart in grado di migliorare la nostra quotidianità, pulendo il pavimento di casa al posto nostro. Benvenuti su MrGadget.tech. È da un po' di tempo ormai che stiamo provando Roborock Q Revo Slim, un robot che per la sua particolare forma e per le tecnologie a bordo si differenzia da tutti gli altri. E oggi vogliamo parlarvi proprio di lui. La prima cosa che salta subito all'occhio è il design. Il suo profilo sottilissimo di soli 8,2 cm lo rende uno degli aspirapolvere robot più compatti sul mercato, una caratteristica che gli permette di muoversi senza difficoltà sotto letti, divani e altri mobili con lo spazio sotto. Un'altra innovazione che sicuramente vi piacerà riguarda il sistema StarSight Autonomous. Senza entrare troppo nei termini tecnici, si tratta di una tecnologia avanzata 3D di navigazione che migliora la capacità del robot di evitare gli ostacoli, anche inaspettati come animali che gli passano davanti, fornendo per la prima volta sul mercato una comprensione tridimensionale dell'ambiente. Grazie a 21.600 punti di rilevamento è in grado di riconoscere ed aggirare ostacoli con una precisione tre volte superiore rispetto ai modelli precedenti, evitando persino quelli di soli 2 cm. In questo modo si riducono le collisioni e le fastidiose interruzioni durante il funzionamento. Parlando di spazi ristretti, Curevo Slim ha un altro superpotere. A bordo ci sono una spazzola laterale Flexi Arm e un mocio estensibile, che si attivano automaticamente quando il robot si avvicina a superfici come pareti o gambe di tavoli, consentendo di pulire bene anche le zone difficili da raggiungere ed evitando che la sporcizia si accumuli in angoli trascurati. Con altri prodotti senza questa funzionalità è necessario ripassare manualmente in queste zone, attività non proprio divertente. In termini di prestazioni di pulizia, Roborock Curevo Slim è dotato di un sistema duo roller riser brush, progettato per prevenire i grovigli di capelli e peli e di una grande potenza di aspirazione, che insieme garantiscono buoni risultati su superfici diverse, dai pavimenti duri ai tappeti. A proposito, visto che spesso si tratta di uno dei punti deboli per questi dispositivi, con il sistema Carpet Bus Plus, Curevo Slim migliora l'aspirazione quando trova sul suo percorso un tappeto, andando in profondità con la polizia e riducendo l'accumulo di sporco e particelle di polvere che possono provocare allergie, soprattutto se in casa con noi vivono animali. Anche la stazione di ricarica diventa sempre più intelligente. Non solo pulisce i panni con acqua calda a 60 gradi, ma è anche in grado di rilevare la sporcizia accumulata e garantire che il robot venga mantenuto in condizioni ottimali. La noiosa manutenzione è così ridotta al minimo, avendo a disposizione un dispositivo sempre pronto all'uso. Per concludere parliamo di una delle mie tecnologie preferite, una funzione che spesso mi fa dire questo robot pulisce davvero meglio di me, cioè la tecnologia Dirt Tech che consente il rilevamento intelligente dello sporco. Identifica la presenza di polvere e macchie e regola di conseguenza la potenza d'aspirazione e il dell'acqua in base al tipo di sporco rilevato. C'è davvero tantissimo da dire su questo nuovo Roborock Curevo Slim, ma per la recensione completa e per scoprire altre caratteristiche intelligenti e il prezzo, vi consiglio di leggere l'articolo completo su mrgadget.tech. Noi ci vediamo presto, ciao!